E' così drammaticamente peggiorata perché noi continuavamo a dire che le cose stavano andando male, vedevamo cosa stava succedendo intorno a noi, i signori politici che sono lì in studio, tranquilli seduti, hanno fatto finta di niente, hanno fatto finta che non stesse succedendo nulla, tutte le categorie praticamente stavano cadendo, sono cadute, non abbiamo più il lavoro perché quando non hai più lavoro non puoi neanche più pagare. Voi state collegando anche Equitalia all'evasione e ci state dando ogni tanto qualche pillolina per farci stare buoni. Guardate che Equitalia, quando parlate di Equitalia non parlate di qualcosa di extraterrestre, Equitalia è un'arma che avete creato voi ad arte. Perché ci siamo uniti? Perché ci siamo uniti? Ci siamo uniti per un unico motivo, per un pezzo di pane, perché siamo tutti nella stessa situazione, le aziende cadono, non ce la facciamo più, noi stiamo facendo i presidi della Sardegna perché la politica ormai è incapace di ascoltare e di reagire e di dare risposte e siccome non siete più capaci di dare risposte saremo noi a scendere nelle strade e a prendere iniziative. E dopo di che... Antone, questo pensa che in due giorni hanno occupato 15 comuni... Perché non c'è più lavoro? Vogliamo dircelo. Perché non c'è più lavoro? Perché le aziende al nord chiudono? Perché non fai a parlare così che non sai che in Sardegna si paga tutto di più, ma lo sai che le aziende, l'industria è ferma perché non c'è il gas, perché non c'è il metano, lo dovresti sapere. Lo sai quanto costa una bombola di gas per famiglia da 15 kg? Sto parlando dell'azienda di Lombardi! Shhh! Castelli, non rompere i coglioni a me! Perché... perché a me... a me non me li rompi i coglioni tu! Perché con me... con me... con me che sono tre anni dentro la stanza! E io... a telefono da scarno! Capito? 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 E la classe dirigente degli ultimi trent'anni ha commesso il reato più grave che si poteva fare. Ha rotto il patto tra generazioni, ne ha messo a me a cinquant'anni, tre anni in cassa integrazione contro i miei figli disoccupati. L'hai capito questo? E state chiudendo le aziende più strategiche che ci sono nel Paese. Il settore è alluminio e l'allumina. Alcoa, Ila, MSMS e tutti gli appalti che ci girano intorno. 5.000 buste paga, 3.500 in cassa integrazione. Solo attraverso il lavoro si esce dalla crisi. Solo sedendosi e mettendo il culo sulla scrivania si esce fuori dalla crisi. Solo il lavoro riduce gli ammortizzatori sociali che possono essere utilizzati per i disoccupati. Solo il lavoro fa rimettere in marcia il commercio dell'artigianato nel mio territorio distrutto.